Saranno due giorni di grande fede quelli del 26 e 27 settembre ad Eboli, festa grande in città per i santi medici Cosma e Damiano con anuttata del 26 con tante messe fino alla processione del 27 alle ore 11, ma anche eventi culturali. È il secondo anno che mi trovo a partecipare e a promuovere questa festa e ho notato l'anno scorso proprio un fiume di gente che partecipava e partecipava con fede. A partire da mezzanotte c'è una veglia di preghiera fino alle 3 quando inizia la prima messa. La seconda messa sarà alle 4, poi 5 e mezza, 7, 8 e mezza, 10, la concelebrazione di tutti i sacerdoti del luogo preseduta dall'Arcivescovo. Dopo la concelebrazione ci sarà la processione con il solito itinerario. La sera del 27 ancora ci saranno le messe alle 17, alle 18 e 30 e alle 20. Il santuario poi rimane aperto fino a mezzanotte. Due giorni innanzitutto di celebrazione religiosa alla quale crediamo fortemente e in condivisione con la comunità pastorella abbiamo ritenuto valorizzare il 26, la parte più laica, quella civile, e il 27 dare il dovuto spazio alla parte religiosa. Infatti è divisa appunto in questi due ambiti ma poi a questo vogliamo aggiungere la novità di quest'anno è che abbiamo ancora di più strutturato la parte organizzativa logistica per l'installazione delle bancherelle, per i servizi annessi, per quanto riguarda la possibilità che abbiamo consentito e consentiamo ai commercianti e bolitani di poter fare la sbarraccata, quindi anche la possibilità di poter esporre come momento promozionale i propri prodotti anche all'esterno delle proprie attività commerciali e contemporaneamente abbiamo anche voluto emettere un'ordinanza che riguarda sia il concerto della Pausinima in modo particolare per la nottata, cioè quello di vieto di distribuire bottiglie di vieto. Il tutto avviene poi in un momento particolare di condivisione, di valorizzazione di via Matteo Ripa, quindi con un bel concerto di via Toledo e contemporaneamente abbiamo voluto valorizzare la parte religiosa alla quale crediamo fortemente e che credo che debba essere questo l'elemento trainante della festa di San Cosimo e Damiano.